Mi chiamo Justin Willman e possiedo delle capacità particolari. Uno, due, tre. Ora uso i miei talenti per uno scopo più nobile. Fornire delle esperienze strabilianti Oh mio Dio! su richiesta alle persone che sono nelle vostre vite e che le meritano. Mia sorella ha un problema con i furti. Vorrei che imparasse la lezione. L'unica persona che può fregarla è un mago. Così ho messo su una squadra composta dai miei amici più abili e perversi. Sono una ragazza da occhio per occhio. per pianificare ed eseguire gli scherzi più incredibili di tutti i tempi che vi aiuteranno a ottenere la giustizia karmica che meritate. C'è nessuno! Siamo qui! Benvenuto all'inferno, fratello. Mi dispiace! Ma che diavolo era? Questo è il Magic Prank Show.